Continua a essere molto critica chiaramente la situazione legata al coronavirus, una situazione che continua a essere piuttosto seria e di conseguenza il mondo dello sport prende le dovute contromisure. In particolar modo il tennis ha preso una decisione drastica di fermare tutta l'attività fino al 7 giugno, quindi praticamente due mesi e mezzo. Non si giocherà tutta la stagione su terra, oltre ovviamente a questi due tornei che si dovevano svolgere a India Wells e Miami, quindi saltano soprattutto Roma, Madrid, che ancora non sappiamo se saranno cancellati o sospesi. E Roland Garros, che invece ieri ha anticipato le danze con una propria decisione di rimandarlo a cavallo fra settembre e ottobre, se non erro, dal 20 settembre fino al 4 ottobre. Il Roland Garros, quindi, che dovrebbe prospettarsi in questa data, poi ci sono stati errori di comunicabilità, ci sono tornei che chiaramente 250-500 che possono essere scontenti in quelle date. C'è la Lever Cup, che purtroppo farà da, in qualche maniera, avversario, rivale, in qualche maniera, diciamo, si metterà sicuramente contro la decisione presa dalla federazione francese. Ci saranno tanti nodi da sciogliere, ma sembrano veramente questioni molto lontane, perché in questo momento non sappiamo chiaramente dove andremo a finire, non sappiamo quando usciremo da questa situazione, ogni discorso al futuro mi sembra piuttosto ridondante e inutile da fare in questo momento, proprio perché non sappiamo quando usciremo da questa difficile situazione, quindi sono proposte, proposte che però non sappiamo se si andranno a realizzare, perché comunque in tanti dicono che si potrebbe riprendere anche a settembre e ottobre, se non addirittura a inizio 2021. Insomma, la situazione è molto seria, molto complessa e chiaramente va affrontata in maniera seria e in questo momento tutto passa in secondo piano, perché semplicemente non ci sono le condizioni per fare sport, non ci sono le condizioni per fare qualsiasi tipo di sport. Il tennis penso abbia fatto bene a prendere questo tipo di decisione, perché se si adotta comunque una sospensione, una misura di questo tipo, va in qualche maniera risa anche drastica e pesante, bisogna essere di mano pesante, perché vanno prese le precauzioni, bisogna assolutamente limitare questo contagio e di conseguenza mi sembra veramente inevitabile questo tipo di decisione. Vedremo poi appunto come si andranno ad incastrare tutti i calendari, visto che insomma è sicuramente una decisione che farà scontentare anche tanti, e sarà sicuramente oggetto di discussione, ma in questo momento tutto ci appare piuttosto un miraggio, piuttosto lontano. Anche negli altri sport la situazione chiaramente non è migliore, magari ve ne parlerò anche domani con gli europei, e la Coppa America che sono stati rimandati al 2021, di un anno esatto, mentre nel ciclismo saltano tutte le classiche del nord, le classiche delle Ardenne, che praticamente si sono corsi anche durante la guerra, quindi pensate un po' che decisione storica, saltano Milano Sanremo e poi saltano tutte appunto le classiche del nord di aprile, sarà sicuramente rinviato al Giro d'Italia, appunto nel tennis saltano tornei importanti come Madrid e Roma, però chiaramente davanti a questa situazione non è semplice, anzi mi sembra impossibile correre e agire, perché sembra veramente una situazione impossibile da contrastare, se non appunto con misure preventive, quindi prima di tutto la salute e poi torneremo a godere il nostro amato sport, che però insomma in questo momento può passare anche nel secondo piano, poiché la situazione in questo momento è veramente critica e seria, e quindi attendiamo certamente il ritorno del nostro sport, ma per ora restiamo in trincea, restiamo in casa e poi vedremo un po' come si andrà a sviluppare la situazione, perché chiaramente nessuno può prevedere il futuro, la situazione non è preventivabile neanche da parte degli esperti, le cose cambiano di ora in ora, di minuto in minuto, di attimo in attimo, e quindi fare una previsione è assolutamente inutile e mi sembra che è poco produttivo. Comunque fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una manca nel video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, chiaramente sappiamo che l'incidenza economica che avrà anche questa crisi legata al coronavirus sarà pesante anche dal punto di vista sportivo, questa penso sia l'unica certezza che in questo momento possediamo. E a questo punto, arrivederci a raggiungere al prossimo video, forza e coraggio ragazzi, forza e coraggio.